Allora andiamo, ok, ora faccio il collo subito lì indietro, mi porto davanti a lui. Il collo è sempre bello, è pronto. Allora andiamo, davanti a loro faccio una presentazione, ok? Ok. Mi porto davanti a loro, siamo a 270, mi fermo lì, ok. Allora andiamo con il laterale, ok. Allora andiamo con l'abbiotti, l'abbiottina va bene, non lo vedete. Allora andiamo con l'abbiotti, il collo è sempre bello, è sempre bello. Controller la potenza, la rotazione è a 360, io cominciamo, è spiralo. Il moto tranquillo, abbiamo controllo di ciclico, destra, sinistra, pedale, collettivo, avanti, indietro. Controllo di ciclico, controllo di potenza, controllo di pedale, costruire la macchina al sonda, piste. Il moto tranquillo sulla coda, ma si tratta di trovare il punto di equilibrio tra la rotazione all'indietro e il movimento sulla coda. Dobbiamo provare la velocità periferica corretta per permettere il frustrattamento portando ciclicoli indietro. Piano piano la cobra, è assurmoso, è tutto bene. Eccolo, carriera. Ok, però se vuoi, mandare con alto e collo lì indietro, con quello di 180, vado. Piano piano la cobra, è assurdo. Piano piano la coda, con la fondata, fondata in versione. Piano piano la coda, fondata in versione, con il pensato, con la fondata, con il piano lì indietro. Ok, dietro la stazione. Ok, vado sul trenale dentro. Allora, questa è la posizione di equilibrio. Impuso, procedimento in punto 100. Allora, la stazione di equilibrio in punto 100 o laterale. Assetto inclinazione laterale. Ok, adesso vado, prima riferimento per la nostra riflessione del frontettore. Degniamo un pochettino. L'uscita tra la destra, l'uscita. Prossimo allo zero, rimettere l'assetto che era dorsù, ora quasi stoppando la salita, recupero, in questo caso lo torno giù l'asco, ancora qua recupero l'assetto giù, e giri va benissimo, qua è 60, guarda, va bene, 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 va bene. Ok, vento in G, una salita verticale, una salita verticale, una salita verticale, una salita verticale con una volta verticale, questi paranzini prima, salgo, quota di sicurezza, e una fondata con tutto il ciclico a sinistra e a destra per uscire in pianta. Prossimo all'assetto verticale, abbiamo la piantaforma, la casina, tirata con la capra alta, il suo muro, la capra alta, la formola di grande, accelerazione, pianta forma, il muro è tirata, sinistra, uscita. Ok, allora, arrivando con me, protezione. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.